Da oggi il Palazzo della Regione sarà innominato di rosa per tutto il mese di ottobre per sottolineare con la campagna che faremo quanto è importante sapere, quanto è importante sapere presto del rischio della presenza di un tumore come questo e soprattutto mettere il servizio pubblico a disposizione di tutte le donne del Lazio.